In questo caso io sposo questa disponibilità, questo lancio di proposta del Presidente Draghi, però non deve esserci un però. Non è che si recuperano materie che invece la scuola ha ben organizzato e la didattica a distanza anche con le difficoltà è stata molto capace, la nostra scuola è stata molto capace di rispondere alle esigenze, ma c'è un problema di socialità, c'è un problema di vivere insieme. Più che una questione didattica, la proposta di un calendario scolastico protratto tutto il mese di giugno, come annunciato dal nuovo Premier, va incontro alle esigenze di socialità e redazione dei più giovani, sempre più compromesse dalla pandemia. Questa è la convinzione di Donazzana, attorno alla quale va costruita ogni programmazione con strutture scolastiche e parti sociali. Tenere aperta la scuola a giugno deve passare da un accordo con il sindacato e bisogna trovare veramente della serenità. Non deve essere il senso di non avete fatto bene e quindi prolunghiamo l'anno punto. Deve essere invece la scuola, la didattica a distanza ha fatto molto, ma manca di alcuni aspetti e quindi proviamo a recuperarli. Prima di tutto la socialità tra i ragazzi. Principio che Elena Donazzana ha già condiviso in un primo incontro con il neoministro alla scuola Patrizio Bianchi, suo parigrado in Emilia-Romagna per due mandati. I rapporti tra di noi sono molto felici perché c'è stima reciproca. Io auguro a lui un gran lavoro e un buon lavoro perché la nostra scuola bisogna di essere rispettata. Ecco, basta arcuri, basta banchi con le rotelle, basta ministro Azzolino che cambiava un giorno sì, un giorno no. Abbiamo bisogno di serenità.